Bene, buonasera a tutti e come sempre un grande piacere darvi un benvenuto e soprattutto dare un grande benvenuto al nostro ospite di questa sera, Matteo Garrone. Grazie. Tanto complimenti per la sala. Grazie. Bellissimo e poi è bello vedere che è piena anche. Che sono piene, parla pure plurale, perché appena abbiamo annunciato al nome di Matteo Garrone il vostro affetto, come spesso succede, ci ha travolto e quindi abbiamo dovuto duplicare gli spettacoli. Senti, una cosa che mi ha colpito moltissimo leggendo le tue interviste di questi giorni è che quando parli di questo film usi sempre la prima persona plurale, parli sempre il nostro film, soprattutto quando hai fatto le interviste insieme ai due interpreti. Sì, quasi appunto il tuo volesse essere, interpretare diciamo il loro messaggio, volevo chiederti come hai lavorato in questo. Beh, ovviamente, visto che io sono italiano, ho fatto un film in Africa in una cultura che non era la mia, di conseguenza era necessario aggrapparsi non solo alle storie vere di chi ha vissuto questo viaggio, ma anche avere l'aiuto loro sia in fase di scrittura che poi in fase di riprese. Io avevo sempre accanto a me dei ragazzi che avevano vissuto il viaggio e che mi aiutavano, mi guidavano. Poi io facevo delle scelte, chiaramente ho messo, insomma diciamo che ho messo il mio sguardo, la mia visione, però è la verità, abbiamo fatto questo film, l'abbiamo fatto insieme. E quindi io sono stato un tramite, una volta un attore che poi vedrete nel film che si chiama Martin, che è un personaggio molto bello che arriverà in un momento del film in cui sentirete il bisogno di un momento di umanità, di speranza. Questo personaggio, una sera mentre stavamo nel deserto e io dicevo, ma io ho l'impressione di, non so se è giusto o no, io sono italiano, ho la sensazione di essere un intruso nella vostra cultura, lui mi ha detto che è molto così bella e diretta, ma ha detto no, tu sei un messaggero. E mi è rimasta impressa questa cosa, non so se è vero o no, ma credo che un po' sia vero. Guarda, io ho visto il film, posso... L'aspettatore lo posso assolutamente confermare, un film che colpisce senza dire niente a loro, senza togliergli la bellezza della visione, anche proprio per come hai saputo caratterizzare questo tuo sguardo. Mi ha un po', un'altra cosa che mi ha colpito è vedere nei titoli di coda Massimo Ceccherini che ha lavorato con te a Pinocchio e mi è venuto così appunto di fare questo collegamento perché effettivamente nella tua narrazione è un po' il concetto della fiaba, quindi della sorta di viaggio dell'eroe. Volevo chiederti proprio con Ceccherini e con Massimo Fabioso come avete lavorato. Beh, effettivamente è un racconto, poi vedrete, è un racconto, è un'avventura, così la chiamano proprio loro, avventura, andare all'avventura. Ed è un'odissea, loro sono veramente oggi gli unici portatori di un'epica contemporanea, quindi è un viaggio attraverso l'Africa, quindi una sorta di road movie, ma anche un viaggio di formazione, quindi il protagonista parte ragazzino e arriva in un altro modo. Quindi è un viaggio, è un viaggio dell'eroe, come diceva Papa Francesco, loro sono i veri eroi contemporanei e quindi è anche un racconto, un romanzo popolare, popolare nel senso che comunque è lineare, è un racconto che non ha sovrastrutture, intellettualismi, forse anche per questo che arriva un pubblico così trasversale. E Massimo Ceccherini è quello più vicino ai protagonisti, perché comunque viene dal popolo, a differenza mia che vengo dalla borghesia e quindi lui quando scriviamo va dritto al cuore, è semplice, va dritto al sentimento della scena. E quindi sia Pinocchio che abbiamo scritto insieme, poi lui è fatto anche un personaggio. Mi ricordo che quando scrivevamo Pinocchio, rimanendo abbastanza fedeli spesso chiaramente all'anima e al capolavoro di Collodi, però ogni tanto ci venivano delle idee, delle piccole trasgressioni. Allora lui si trovava a scrivere a volte delle scene per Roberto Benigni, ma io poi andavo da Roberto a fargli vedere la scena che mi diceva è meravigliosa, però non avevo il coraggio di dirgli guarda la scritta Massimo Ceccherini. Perché Roberto aveva un'idea di Ceccherini come di una figura così, un po' ubriacone, un po' un comico, un po' di livello. Invece Massimo è veramente una persona di un talento straordinario, generosissimo. E quindi poi ho aspettato, tipo Sirano, ho aspettato, ho aspettato, ho aspettato, poi quando ci siamo ritrovati sul set ho fatto fare amicizia a Roberto e Massimo e nel momento in cui è nata questa amicizia ho potuto finalmente confessare che tante delle scene che Roberto ha interpretate in Pinocchio erano scritte da Massimo come un sarto perché Massimo amava la follia, il suo idolo era Roberto sin da piccolo, quindi conosce la sua comicità in maniera perfetta, quindi gli scriveva le scene sapendo esattamente come Roberto le avrebbe interpretate, quindi come un sarto che fa l'abito su misura. Infatti io andavo da Roberto e mi dicevo ma questa è perfetta, questa è stupenda, io facevo finta di averla scritta io ma in realtà era Massimo. Senti c'è anche una bellissima dimensione onirica in qualche modo all'interno del film. Sì, no, quei momenti lì come vedrete sono dei momenti che abbiamo inserito per dare oltre a questo viaggio geografico di cui vi parlavo anche un viaggio interiore dell'anima del protagonista e quindi quei momenti lì servono per raccontare anche i suoi stati d'animo, i momenti in cui vive, i momenti di raccontare un po' in profondità quello che prova. Questo è un po' il motivo che ci ha spinto ad avere anche ogni tanto dei sogni. Senti a livello proprio realizzativo avete girato in Marocco che tra l'altro purtroppo tutti sappiamo in questo momento vive una situazione di grande difficoltà, però a livello appunto di riprese produttivo com'è stato affrontare questo film anche rispetto a tutti gli altri che hai? Ma è faticoso, ma insomma alla fine ne è valsa la pena, però è stato faticoso perché comunque è un film d'avventura, un film d'azione e quindi spesso abbiamo avuto delle complicazioni come spesso accade, dei incidenti, rischi anche che si facesse male qualcuno e quindi per fortuna abbiamo sempre avuto come dall'alto qualcuno che ci ha protetto, ecco è un film un po' magico, se è un nome un po' magico e quindi ci è sempre andata bene all'ultimo. L'ultima cosa che ti chiedo, ce ne sarebbero veramente tantissime, ma so che alcuni appunto dei tuoi attori sono poi anche delle persone che hanno effettivamente fatto questo viaggio, qual è stata la loro reazione insomma di fronte al film o comunque altre persone che hanno effettivamente fatto questo viaggio? I protagonisti, intanto i protagonisti che vedrete, sei due Mustafa, loro in realtà sono due ragazzi che studiavano recitazione, uno a Dakar e uno in una piccola cittadina vicino a Dakar, che avevano la passione per la recitazione ma che non avevano mai avuto esperienze cinematografiche e non erano mai usciti dal Senegal, quindi questo aspetto è stato centrale, perché avevo fatto anche dei provini in altri paesi, avevo fatto dei provini di attori senegalesi in Italia, in Francia, in Spagna, però alla fine era diverso lo sguardo, era diverso lo sguardo di chi cresce in Europa rispetto a chi cresce lì. Siccome il personaggio ha una sua purezza, anche ingenuità, a volte è un po' così, mi ha ricordato delle cose un po' del film precedente di Pinocchio insomma in certi momenti e quindi alla fine la scelta inevitabile era quella di prenderli lì in Senegal e soprattutto come avevo fatto una volta su Gomorra con i due personaggi Marco e Ciro, non gli avevo fatto leggere la sceneggiatura, lasciavo che credessero di essere invincibili, la stessa cosa ho fatto con loro, non gli ho mai dato la sceneggiatura, lasciavo che seguissero le avventure dei loro personaggi, dei personaggi che interpretavano di volta in volta, giorno per giorno, in sequenza e quindi gli raccontavamo oralmente perché gli raccontavamo in Wolof, che è una lingua orale, quindi scritta in italiano la sceneggiatura, tradotta in francese e tradotta oralmente in Wolof la mattina sul set. Questa era lingua per me incomprensibile, potete immaginare mesi di provini in Wolof, poi le riprese andavo a orecchio, però alla fine mi ero abituato a capire quando recitavano bene, quando recitavano male dal suono, dai suoni. e alla fine abbiamo insieme fatto questo percorso, questo viaggio e come mi chiedevi tu, dietro di loro spesso vedrete durante il viaggio ragazzi e ragazze che realmente hanno... I ruoli più importanti sono ruoli che interpretano attori, però diciamo quelle che chiamiamo figurazioni durante il viaggio sono quasi tutti ragazzi e ragazze che avevano vissuto l'esperienza del viaggio, il deserto, i campi di detenzione in Libia e nella parte finale della barca molti avevano vissuto il mare. Quindi insomma mi hanno aiutato molto nel ricreare questi mondi e cercando di rimanere autentici, veri e io insomma li tenevo sempre davanti al monitor molti di loro per vedere le reazioni. Ero molto preoccupato diciamo venendo da un'altra cultura di cadere dentro i classici cliché e stereotipi che conosciamo bene quando vengono a fare i film dall'estero in Italia. Allora ho detto ora farò la stessa fine io in Africa e per quello ho cercato di avere il loro aiuto e loro si sono fidati di me e insieme abbiamo fatto questo film. Matteo grazie davvero, noi vorremmo trattenerti di più ma so che appunto hai anche tu il tuo viaggio e iniziamo da fare però come facciamo con tutti gli amici di Cinema Zero non vogliamo lasciarti andare via mani vuote. vogliamo darti questa piccola tessera che ci rappresenta e che ha il nostro slogan la vita è un film è la tessera di socio onorario di Cinema Zero che quindi ti consegno con grande piacere è la nostra borsa appunto la vita è un film così quando vuoi tornare a trovarsi. Un'ultima cosa però te la voglio chiedere entrando nel nostro cinema non so se l'hai visto abbiamo scritto uno slogan sulla porta in modo che ognuno di voi, ognuno di noi lo veda quando entra e quando esce che dice il cinema è cinema solo al cinema noi crediamo molto in questo volevo chiedere a te che cos'è per te l'esperienza cinematografica cos'è per te, perché è importante vedere i film al cinema? Ma è perché intanto la sala lo schermo è gigante quindi è un altro impatto emotivo e qui si apre una parentesi che secondo me è una battaglia che sto continuando cercando di fare che è quella di cercare di fare anche un lavoro costante di manutenzione dei cinema perché spesso sai che i cinema non sempre sono così a volte capita che vai in una sala ti aspetti di trovare una sala come questa invece ti ritrovi in una sala da 20 posti a Roma succede spesso e quindi secondo me bisogna per cercare di far continuare a vivere il cinema cercare di fare degli schermi sempre più grandi perché le televisioni diventano sempre più grandi dentro casa e noi dobbiamo fare dei cinema sempre più grandi grazie a Matteo Carone grazie per essere venuti buon viaggio grazie a tutti Grazie a tutti.